Bene, grazie mille di questa presentazione, sono felicissima di essere qui, di ricominciare questi nostri appuntamenti di incordata in presenza e con un appuntamento così speciale come la celebrazione, l'omaggio a un grande Rigoni Stern di cui fra pochi giorni si celebrerà proprio i cent'anni dalla nascita. E questa sera sono qui appunto con Giuseppe Mendicino, autore del libro e adesso spenderò due parole però su come Giuseppe è arrivato a scrivere questo libro e con Jacopo Rosatelli che è di casa qui al circolo per dei gruppi di lettura che ha tenuto fino a oggi, giusto? In questo momento di passaggio ed è comunque un cultore anche di quello che è la memoria storica e nella sua valenza politica e sociale. Invece per quanto riguarda Giuseppe Mendicino sicuramente voglio, anche se molto in sintesi, vorrei ricordarvi che questo libro è come un approdo, direi, di un lungo lavoro, di una lunga conoscenza coltivata con Mario Rigoni Stern, ma pensate che il suo primo lavoro è del 2006, era una raccolta di scritti inediti pubblicati per la Domus editoriale con Meridiani e Montagne. Dopodiché ci sono stati tanti passaggi fino ad arrivare al 2016, direi, con il primo libro, la prima biografia così, biografia in quanto tale pubblicata per Priuli e Verlucca, che era una biografia di una ricchezza assoluta, estremamente ampia, varia, piena di testimonianze, piena di suggestioni. Un po', forse possiamo dire oggi il preludio a questo tuo libro, che invece è più forse rigoroso, razionale e più profondo, scava in una serie di argomenti che hanno segnato la vita e l'opera, il messaggio di Rigoni Stern, dello scrittore di Asiago. Quindi io direi, come prima cosa, raccontaci qualcosa di questo libro e anche di come tu, anzi, mi piacerebbe che ci raccontassi come sei arrivato a diventare il maggior studioso di Rigoni Stern, cosa che è passata attraverso una conoscenza personale. Ma guarda, è un po' avvenuto naturale, perché io ho sempre amato la montagna, l'ho frequentata, l'ho scalata, non come te, un po' fino, e ho sempre amato la letteratura, soprattutto quella letteratura, Primo Levi diceva dello scrivere chiaro, ecco, in un breve saggio bellissimo che io farei leggere nelle scuole, che accomuna autori come Mario Rigoni Stern, Primo Levi, Nuto Revelli, Italo Calvino, Leonardo Sciascia, e che è contrapposta sia al linguaggio, alla scrittura contorta, sia a quella fumosa e banale, soprattutto quando accendiamo il telegiornale, ecco, trasversalmente inquietante, la mia persona, come ho sempre detto, quando sento un politico che dice come ho sempre detto, io mi viene da scuotere la testa, ha detto Rigoni Stern, Primo Levi, non avrebbe mai detto una stupidaggine del genere. Ecco, l'altra cosa è la storia, la passione per la storia, io ho studiato giurisprudenza, poi dopo, quando ho finito, sono andato a studiare lettere e ho dato tutti gli esami di storia, ecco, trascurando quelli di latino, la storia soprattutto del Novecento, e in Rigoni c'era tutto. Poi la scintilla è stata un'intervista dove lui diceva che amava due autori, Ernest Hemingway e Joseph Conrad, e era curioso che questo autore di montagna, che alle volte qualcuno vuole quasi trasformare una specie di saggio delle montagne, buono per tutte le stagioni, non era buono per tutte le stagioni, aveva un'etica molto seria, precisa, e non va bene per tutto, per tutti i tempi e per tutte le... aveva idee molto, molto chiare. E lo stesso, la stessa passione per Conrad ha due aspetti, uno, diciamo, il senso dell'avventura, l'amore per l'avventura, lui fin da ragazzo si era appassionato, come tanti, tanti di noi, a un libro, l'Isola del Tesoro di Stevenson, che apre il mondo, è il più bel libro per ragazzi che si possa leggere. E poi però, quando scappa di casa per colpa di un rimprovero che riteneva ingiusto del padre, lui scappa in una marga d'inverno e ha nello zaino Joseph Conrad, Tifone, uno dei suoi libri più belli, ma non era solo, ecco, il desiderio dell'avventura, erano anche i miei autori e quindi questa cosa mi ha incuriosito. Ho telefonato, ho chiesto appuntamento con il sergente maggiore di casa, sua moglie, me l'ha dato, preciso, lui aveva un grande senso dell'ospitalità. Quando qualcuno, non solo un amico, un parente, ma un semplice lettore, chiedeva di parlare con lui, lo riceveva nel suo arboretto salvatico, che è un bellissimo libro che prende spunto ogni capitolo da un albero diverso, ma era anche quello che lui aveva intorno casa, cioè un boschetto alberi che aveva piantato fin dai primi anni Sessanta insieme ai figli e lì accoglieva il visitatore, si poteva parlare per un'ora, poi dopo un'ora arrivava Anna e diceva Mario che avevamo da andare via e lì si chiudeva. Da quel primo incontro però è nato qualcosa di più, quindi sono sempre tornato a ritrovarlo, fino a capire che la passione per Conrad non era solo amore di avventura o di mare, ma era anche amore di etica civile, perché un giorno, non so se qualcuno ha letto Lord Jim di Conrad, è uno dei suoi libri più belli, mi fece, aprì una pagina e c'era il protagonista che diceva, perché vedi, a tutte le latitudini, qualunque sia la lingua, la religione, il colore della pelle, la morale è una sola, i principi più importanti, il coraggio, la generosità, la sobrietà, il senso di responsabilità unito alla libertà, perché l'amore per la libertà da solo non serve se non è unito al senso di responsabilità, sono comuni a tutte le civiltà, al di là di qualunque, a tutte le latitudini, quindi l'etica è una e questa è una cosa che mi ha colpito profondamente. Sì, sicuramente poi il suo arrivo come scrittore negli anni 50, dopo il secondo conflitto mondiale, questo aspetto ha giocato, è stato un po' una chiave di volta. Guarda, l'inizio per Rigoni, come anche per Primo Levi e Nuto Revelli, è stato molto difficile, non sono stati compresi subito, forse Mario Rigoni sempre ha avuto la fortuna di essere apprezzato da Vittorini, ha capito subito che era un libro particolarmente originale, non era solo scrittura concreta, incalzante, era anche scrittura poetica, perché la passione che aveva Rigoni per la poesia, lui portava questi due libri nello zaino durante l'addestramento alpino, il Dante Alighieri, la Divina Commedia, edizioni epiche, che sta dentro una tasca, e il Primavera e fiore della lirica italiana di Giosuè Carducci. Questo afflato poetico nelle pagine emerge ed è un'originalità importante. Poi Vittorini non ha fatto solo del bene, perché ha posto anche dettagli a quel libro che io non condivido assolutamente. Lui, dopo la guerra, c'era questa idea di una letteratura, un po' sulle, seguendo Steinbeck, Faulkner, quella americana, una letteratura molto di fatti e poche digressioni, poche riflessioni, ma soprattutto un ritmo incalzante, a volte con esiti straordinari, come Addio le armi di Hemingway, che in Italia purtroppo è uscito solo dopo la guerra, perché prima il fascismo l'aveva vietato. E quindi queste digressioni sentimentali nel sergente a Vittorini non piacevano, e le ha tagliate brutalmente. Io ho riportato nel libro dei brani tagliati, e viene a dire, ma perché? Primo Levi è stato più sfortunato però, perché come sappiamo venne rifiutato da Leinaudi, fra l'altro da Natalia Giesburg, nessuno ha mai capito perché, fu uscì in una piccola casa editrice. Però fu salvato da Franco Antonicelli, che invece era un fine intellettuale. Era uno che veniva da Giustizia e Libertà, e io, una delle mie passioni, il Movimento di Giustizia e Libertà, Leinaudi lo pubblicò purtroppo solo nel 1958, e divenne quel successo mondiale. Sentite, ma siamo partiti in quarta, in realtà volevamo vedere un trailer... Un trailer di un documentario nuovo, che uscirà a novembre su Rigoni Stern, ed è fatto bene, perché in poche immagini riesce a sintetizzare tanto del mondo di Rigoni. Ecco, quando vedrete una miniera a cielo aperto, non è solo una miniera di ferro a cielo aperto, è l'ultimo lager di Rigoni, dove ha trascorso gli ultimi otto mesi di prigionia, e siccome sia io che abbiamo avuto dei parenti stretti che hanno patito la prigionia come Rigoni Stern, ci sta particolarmente a cuore rivederlo. Questo è un sasso di quella miniera. Avete mai assistito un'erba sulle montagne? Prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l'erba, ci fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l'aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione, che il sole ci porta ogni mattina. Lui è uno straordinario creatore di mondi, e Asiago è un mondo per lui perfetto. La natura fa parte della nostra vita, non possiamo dimenticare questo. Noi siamo animali che abitiamo la terra, e anche noi facciamo parte di questa terra, questo vento che scuote gli alberi, che fa cadere la neve, chissà da dove viene, chissà cosa si racconta. Forse viene dai paesi lontani del resto, e si porta qui ricordi, a me può riportare memorie di guerra, ricordi di amici. Rispetto dell'ambiente, che voleva dire anche cacciare. Voleva essere cacciatore, lo era, e teorizzava il suo potere essere contemporaneamente cacciatore e ambientalista. Io qui entravo da ragazzo a giocare. Lo spazio e il tempo, che toccano a Mario, e a Mario di Stern, è l'altopiano distrutto del 1921. E ci vuole poco in quella temperie, in quel clima politico-culturale e psicologico, in quella famiglia, in quella asiago-fascista, in quell'Italia fascista, perché la sua bravura ginnico-sportiva lo porti a diventare alpino. Mentre i nostri soldati già combattono sul fronte russo, continuano ad affluire le truppe, a rinforzare il nostro corpo di spedizione. Il corpo militare italiano alpino era completamente circondato ormai dai russi. Per uscire fuori bisognava sfondare a Nikolaevka. Il momento combinante della mia vita non è quando ho vinto premi letterari, ho scritto libri. Ma quando la notte del 15 al 16 gennaio sono partito da qui, sul Do, con 70 alpini, ho camminato verso l'Occidente per avere a casa. E sono riuscito a sganciarmi dal mio caposaldo senza perdere un uomo. Quello è stato il dopolavoro della mia vita. Dopo aver girato l'intera Europa, scalato montagne, combattuto su tre fronti, vissuto nel lager, riprende in mano questi appunti nati in prigionia e inizia a scrivere. in armonia con se stessi e con il mondo. La capacità di vedere la natura e di rispettarla. Un uomo che ha attraversato le peggiori tragedie del Novecento riuscendo a rimanere integro. Ha difeso la natura fino all'ultimo, ha conservato fino all'ultimo la capacità di indignarsi di fronte all'ingiustizia. effettivamente sono quattro minuti molto densi, condensati, che aprono tantissime finestre. Ma direi, Jacopo, su il coraggio di dire di no. Perché siamo abituati, Giuseppe ha citato Notorrevelli, Primo Levi, qui siamo, come dire, abbiamo confidenza con i partigiani, con la resistenza e forse meno con una resistenza diversa che è stata fatta dai militari che hanno poi scontato la loro non adesione alla Repubblica di Salò dicendo no, noi non combattiamo e sono stati fatti prigionieri. Com'è la tua... Ti ringrazio Linda e buonasera a tutti e tutte e grazie all'autore per darci questa opportunità. Prima di risponderti volevo riprendere un tema secondo me particolarmente bello e interessante citato prima da Giuseppe Mendicino l'universalismo di Mario Rigoni Stern quando Giuseppe Mendicino diceva che Rigoni amava dire riprendendo i suoi autori più cari ovunque tu vada c'è una morale, una cosa giusta. Quindi l'universalismo ed è l'universalismo di una persona situata in un piccolo angolo del mondo fortemente radicato in quell'angolo di mondo espressione di quell'angolo di mondo come l'altopiano di Asiago e questo a indicare come essere fortemente radicati in un luogo non significa essere chiusi al mondo l'universalismo non è il frutto di essere dei globetrotter che girano ma si è autenticamente radicati in un punto del mondo e si può essere altrettanto autenticamente universalisti. In fondo Kant, il campione dell'universalismo morale e filosofico era quello, un uomo che non era mai uscito nella sua vita da Königsberg che non aveva fatto altro che camminare per questa cittadina prussiana l'attuale Caniningrad, come sapete è il grande filosofo dell'universalismo dei valori, dell'uguaglianza e secondo me Rigoni è da questo punto di vista un kantiano non solo sul cotte filosofico ma anche su quello diciamo biografico e quindi da questo punto di vista le grandi voci dei territori sono voci universali universaliste bisogna secondo me rifugire da quelli che coniugano l'attaccamento alla propria terra con la chiusura al mondo con la chiusura al prossimo con il rifiuto dei valori universali proprio perché le vere espressioni dell'attaccamento alla propria terra sono quelle voci che sanno parlare la lingua universale dei diritti, della giustizia e dell'etica e questo mi sembra particolarmente particolarmente importante in Rigoni come poi anche in Nuto Revelli e anche in Primo Levi ad esempio che peraltro sono quelle amicizie di Rigoni che fanno di Rigoni un autore in parte anche torinese e piemontese nelle frequentazioni e nelle amicizie quindi è bello ricordarlo qui a Torino questa sera insomma ha un legame particolare con la nostra città e con il nostro territorio ma per venire alla domanda di Linda Cottino e sì è molto importante secondo me dare il giusto peso a quelle forme di resistenza diverse dalla forma classica di resistenza che noi onoriamo e grazie alla quale noi siamo qui persone libere che possono leggere i libri e parlare e conversare insieme cioè quelle forme chiamiamola così della resistenza civile o della resistenza non violenta o della resistenza non combattuta con le armi della resistenza del no o della resistenza fatta attraverso piccoli gesti che non sono diciamo non sono valsi il riconoscimento ufficiale di essere partigiani e partigiane senz'altro i soldati italiani che si sono rifiutati di consegnare le armi ai tedeschi e di associarsi alla Repubblica Sociale Italiana e prima l'autore appunto ricordava come prima di entrare qui ci siamo scambiati questa esperienza biografica il mio nonno paterno per esempio è stato uno di quelli era un fronte jugoslavo alpino tra l'altro come Mario Rigoni Stern rifiutandosi di consegnare consegnare le armi ai tedeschi e di unirsi quindi di fare una scelta collaborazionista ha pagato questo con quasi due anni di prigionia molto dura in Germania e quindi sono molto legato perché sono cresciuto con i suoi racconti di questa storia che per lui ovviamente è stata determinante anche a formare poi la sua identità di persona ma non solo gli internati militari italiani che sono stati per molto tempo poco ricordati perché erano un po' imbarazzanti perché lì si trattava di chiamare in causa le responsabilità dirette della Germania e che poi sono stati poi successivamente ricordati e a cui è stato dato anche il giusto tributo anche attraverso per esempio Alessandro Natta la figura del penultimo segretario del Partito Comunista Italiano che studiò e diede testimonianza di questo e poi successivamente grazie per esempio al presidente Ciampi che ricordava come la resistenza italiana era cominciata a Cefalonia dove purtroppo lì le cose andarono male perché tutti i soldati persero la vita quindi quel tipo di resistenza ma anche la resistenza di quelle figure raccontate da altri capolavori della letteratura da Fenoglio Pavese ma insomma di quelle donne ad esempio che accoglievano i partigiani magari semplicemente rifocillandoli o dandogli la possibilità una notte di dormire al riparo e poi lasciarli insomma senza fare nulla di più di questo ma tutta questa trama enorme di piccoli gesti di cura di cura delle persone che combattevano oppure anche la possibilità di nascondere delle persone che fuggivano rinitenti alla leva ecco sono state queste persone nella trama della resistenza civile mi piace cogliere l'occasione per ricordare una grande storica torinese scomparsa da non molto tempo Anna Bravo che su questo sulla resistenza non violenta sulla resistenza civile ha scritto parole bellissime con uno sguardo di genere e questo mi piace dirlo se volete anche per le funzioni che ricopro da oggi a mezzogiorno di come la resistenza delle donne è stata questa resistenza non violenta che ha avuto un ruolo fondamentale che per fortuna la storiografia adesso comincia ad individuare ecco c'è una trama c'è un filo che lega tutto questo che lega il no di Rigoni Stern che paga con la deportazione nei campi diciamo degli internati militari che era un modo per non riconoscere loro la dignità di prigionieri di guerra e per sfruttare la loro forza lavoro senza attribuire alcuna dignità a questo lavoro forzato e fino alle donne che hanno in tutti i posti del nord Italia e non solo accudito si sono prese cura di persone che poi magari andavano a combattere o che semplicemente fuggivano e questo è anche servito dice Anna Bravo a evitare ulteriori spargimenti di sangue e questo è molto importante per cui è un libro di Mendicino nel ricordare questa esperienza di Rigoni Stern e nell'inquadrarla in tutta la sua traiettoria di vita è particolarmente prezioso perché è un contributo in più alla conoscenza di questa forma particolare di resistenza al nazifascismo Senz'altro tra l'altro c'è proprio questo libro che hai in mano Sì uno dei libri in cui ho raccontato Rigoni è stato si intitola proprio Il coraggio di dire no ecco mi fa molto piacere che sia anche il titolo di questo incontro l'abbiamo pensato io e la moglie di Rigoni perché sai un titolo bisogna stare attenti concentrare in poche parole l'essenza e allora abbiamo pensato a questo titolo qui e qui ho raccolto partendo da una cerchia di 400 interviste e conversazioni ho cercato di mettere insieme quelle più significative e penso di esserci riuscito perché il commento più bello che ho sentito a questo libro una lettrice di una bella età ma che chiama tanto i libri e poi ti dirò chi è ha detto sembra di parlare con lui ecco è questo che davvero mi ha fatto piacere perché a rileggerlo anch'io mi sembra di di essere sotto gli alberi quando si parlava con lui il coraggio di dire no è quella scelta dell'8 settembre del 43 esatto naturalmente successiva all'armistizio 600 mila soldati giovani vennero mandati nei vagoni piombati verso la Germania Rigoni venne mandato prima verso la Prussia orientale e poi dopo alla fine dopo tante peripezie vari lager gli ultimi otto mesi li passò avete visto quella miniera di ferro a cielo aperto nella regione della Stiria sono montagne è una bellissima zona sono dei boschi meravigliosi tutte montagne verdi e ce n'è una rossa con questi gradoni alti che Rigoni quando la vide la sua passione per Dante dice questo è il purgatorio come viene raccontato nell'illustrazione di Gustavo Doré e lì chi lavorava in alto moriva congelato perché io sono andato lo scorso giugno a girare quel documentario ero nella biblioteca del paese sottostante paesino austriaco tutto bello colorato pulito e mi sono arrabbiato tantissimo indignato non voglio usare la parola arrabbiato perché in quel paese in quella miniera che ancora funziona non c'è una targa un libro nulla che ricordi che lì c'era un lager è una cosa abbastanza brutta infatti vedere le immagini oggi sembra un posto totalmente in piedi una baracca la baracca delle guardie con i vetri rotti non so quanto reggerà ancora fra l'altro io ho scritto a varie associazioni nazionali importanti di vario tipo non mi ha risposto nessuno io vorrei che qualcuno se mi puoi dare una mano guarda qualcuno prendesse l'iniziativa di dire lasciamola in piedi quella baracca perché ha un valore altissimo lì hanno sofferto hanno patito tanti ragazzi di varie nazionalità e Rigoni l'ha sempre ricordata perché nei suoi libri noi vediamo fuori uomini boschi api il sergente della neve uno può immaginare guarda ci sono libri che parlano di guerra di storia e altri di natura no è un amalgamo nel sergente della neve pieno di paesaggi basta pensare all'inizio le canne sbattute dal vento sulle rive del Don il quadrato di Cassiopea è un continuo c'è una ricchezza di paesaggio di natura in tutti i libri e nei libri apparentemente di natura uomini boschi api parte con tre racconti di lager compreso il terzo che i giorni del nord est che parla proprio di quel lager lì quindi è come la è come la vita ci sono le cose belle le cose brutte le montagne amatissime queste l'agrivola la scalata l'agrivola ecco la lettera in cui racconta gli amici di Asciago la scalata l'agrivola è il suo primo racconto lui non nasce scrittore col sergente ma guarda lì quella lettera della scalata l'agrivola è un resit d'ascensione bellissimo sapeva scrivere fin da ragazzo aveva fatto sulla scuola di avviamento ma leggeva tanto invece c'è un passaggio ho trovato guarda un mese fa quindi è una cosa una sorpresa una lettera proprio da quel lager li leggo solo le prime tre righe perché io penso che le letture uno se deve fare guarda scrive cara Ennele Ennele Anna è un diminuitivo un po' cimbro un po' antico veneto è il 2 dicembre del 1944 ha nevicato fino a poco fa e ora una lune grande luminosa tra uno squarcio e l'altro delle nubi illumina uno scenario fantastico di boschi e cime il silenzio immenso solo rotto di quando in quando dal richiamo dei caprioli che vagano nei boschi sembra un pianto umano sarà qualche cerbiatto smarrito nella neve che chiama la madre i miei compagni dormono nelle baracche fa tanto freddo forse però qualcuno di loro vegerà e penserà come me al prossimo Natale aveva 22 anni aveva fatto solo la scuola d'avviamento secondo me scriveva benissimo tra l'altro hai citato hai citato l'agrivola poi Mario Rigoni Stern appunto era partito a 17 anni per la Val d'Aosta aveva risposto a un bando semplicemente per specializzati rocciatori specialista sciatore rocciatore esatto tra l'altro prima di fare l'alpino un segreto tenta di fare il marinaio sì esatto l'amore della ragazzina di Venezia un amore tutto di testa che si era immaginato senza saper nuotare infatti penso il sogno di avventura cerca di entrare in marina naturalmente non ce la fa anche perché non ha mai imparato a nuotare in vita sua subito dopo esce questo concorso l'unico il primo e l'ultimo da sciatore rocciatore entra e lì passa 20 mesi di addestramento alpino fra tutte le allora la Val d'Aosta e il Piemonte era un'unica cosa però partono dalla Val Formazza lo racconta specialmente l'ultima partita a carte e via via per tutte le valli e le montagne a sud della Val d'Aosta lo supereranno solo in quattro quel corso quattro e gli altri tre sono amici importantissimi alla fine della guerra non ne ritroverà neanche uno perché uno Achilli muore proprio a Nicolaevka era di origine abruzzese che mi commuoveva quando recitava Jacopone da Todi nelle tende diceva l'altro chianale era delle parti tue e gli diceva quando torniamo saliamo ti porto sul Monviso che da lassù si vede il mare il terzo era Arno da Monte è un grandissimo alpinista chi legge il touring quei libri che tu conosci a memoria Scalà del Monte Bianco del Gran Paradiso di Guida Grigia di Guida del Caltore sono legate al nome di Arno da Monte lui come muore lui era dell'Alto Adige dopo a settembre del 43 non viene imprigionato gli dicono tu entri nella verma lui dice no e lo massacrano a bastonate quindi dopo la guerra Rigoni li cerca e non trova nessuno come Primo Levi non trova più Santo Dalmastro ammazzato nelle vie di Cuneo tra l'altro per chi va in montagna e conosce i grandi grandi alpinisti dell'epoca tra i suoi addestratori c'erano Renato Chabot Emilio Comici Gigi Panei Giacomo Chiara insomma dei grandi nomi come avete visto con Giuseppe basta lanciargli un'esca che si aprono veramente un episodio un episodio dietro l'altro ma se 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 volessimo tornare a una diciamo così una categorizzazione no? come tu hai scelto di fare anche per il convegno che stai che hai organizzato per ad Asiago il prossimo fine settimana sostanzialmente diciamo i grandi i quattro grandi punti sono quelli dell'etica civile come abbiamo detto della memoria del fare memoria si guarda il convegno si svolgerà sabato e domenica ad Asiago parteciperanno Walter Barberis storico e presidente dell'Einaudi tra l'altro sta abbastanza male per una caduta incredibile si è rotto Tibia e Peron nella valle di Champorce che poi magari ne parleremo era la valle più cara a Primo Levi a Mario Rigonisterne l'avevano percorsa da ragazzi uno a 19 anni l'altro a 20 e ne avevano 60 quando siamo grandi torniamo insieme nella valle di Champorce a rivedere la rossa dei banchi il lago bianco il lago di Missorene e non ci riuscirono perché nell'aprile dell'87 Primo Levi morì purtroppo ecco i quattro punti cardinali che poi sono i quattro punti di attualità di Rigoni sono un'appassionata difesa della natura che è attualissima i cambiamenti climatici sono terribili vaia tre anni fa distrutto tante foreste dell'altipiano di Asiago 500.000 alberi buttati giù come birilli e io mi ricordo ora la passione per Rigoni a un'intervista a Radio Popolare l'intervistatrice tre giorni fa ma non era un'attenzione un po' antica no 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 io ho detto non era nostalgia anche però era attualissimo io mi ricordo nel 2006 mi disse guardi in Germania sono 20 anni che c'è una legge approvata da tutti sul consumo di suolo in Italia ancora non c'è siamo l'unico paese dell'Europa occidentale che non ha la legge che blocca il cementificare quello che Zanzotto chiamava il progresso scorsoio siamo nel 2021 e non c'è ancora io ho seguito l'iter di questa legge balla 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 non l'hanno mai approvata quindi era un'attenzione molto concreta alla natura io chi non crede ai cambiamenti climatici per usare un linguaggio da internet lo banno cioè è anche inutile discuterci non ci perdo tempo l'altro punto cardinale è la scrittura chiara quella che prima dicevo di quel bellissimo saggio di Primo Levi dello scrivere chiaro ma è anche di Calvino perché poi nelle lezioni americane Calvino dà un'indicazione di scrittura chiarezza velocità concretezza ricchezza di vocaboli che sono quelle di Rigoni Stern assolutamente non a caso Italo Calvino è stato uno il primo grande stimatore di Mario Rigoni Stern e avevano un rapporto molto molto importante tra di loro poi abbiamo l'etica civile questa più attuale di questa sai sono valori facili da declamare il coraggio la generosità il senso di responsabilità lui lo diceva prima la cosa più bella che ho fatto in vita mia portare in salvo i 70 uomini nel mio protone per tutta la riundici giorni della ritirata dice io non ci dormivo la notte dal pensiero che ero responsabile per loro ma chi è responsabile di milioni di uomini cosa sente allora forse non sente nulla chi a Roma ci ha mandato in queste guerre di aggressioni contro la Francia che era in ginocchio contro la Grecia che non aveva fatto nulla dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 non attaccheremo mai la Grecia sempre proprio uno squallore totale il quarto punto era lo dicevi prima il senso della storia della memoria cioè chi ha avuto parenti in casa penso anche tu si ha incubi per tutta la vita chi ha subito la guerra la prigionia ha incubi fino all'ultimo io mi ricordo le grida di mio nonno che era sergente maggiore anche se del genio le prime parole in tedesco che ho imparato erano parolacce perché era quelle che lui aveva imparato nel lago e però primo le è venuto a revelli rigoni sentivano il dovere di andarla a raccontare quei fatti nelle scuole anche se poi inevitabilmente di notte lo pagavano con incubi perché lo sentivano come un dovere dovere all'inizio rivolto soprattutto verso il passato cioè noi dobbiamo ricordare anche per quei nostri amici come i toni che sono rimasti giovani per sempre perché sono morti in guerra in prigionia dobbiamo dare voce anche a loro a chi non l'ha più e lì è importante il lavoro di Nuto Revelli soprattutto e poi però piano piano sempre più uno sguardo verso il futuro perché quell'illusione dopo la guerra quelle cose non succederanno più non è vero sono successe e se non vengono raccontate succedono ancora se viene banalizzata la storia non voglio citare cose di basso livello però davvero è importante ricordarla e facevano anche esempi concreti primo Levi che non ha visto quello che è successo in Jugoslavia citava la Cambogia stragi un quarto della popolazione sterminata Nuto Revelli e Mario Goni Stern citavano la Jugoslavia cioè nel cuore della civile Europa ancora stragi etniche assebbenizza sterminata 8.000 esseri umani tutta la popolazione maschile e quindi se queste cose non le raccontiamo ma senza enfasi senza aggettivi senza corone cerimonie trombe pennacchi raccontando i fatti perché l'orrore è inutile enfatizzare l'orrore era nei fatti allora basta raccontare i fatti nomi cognomi e date i ragazzi forse lo capiscono uno di questi punti era proprio quello legato alla natura lui era era un cacciatore ogni tanto gli dicevano ma come come fai a essere un cacciatore e al tempo stesso un ambientalista giustamente lui diceva ma come una volta così come chi raccoglie chi cura il bosco chi cura le foreste abbatte in modo sensato una parte di foresta una parte di bosco la stessa cosa dovrebbe essere fatta con la caccia per cui lui tra l'altro andate a rileggere davvero questi questi passaggi queste descrizioni che fa che diventa mescola la poesia con il rigore del naturalista cosa che fa anche con gli animali è come se lui stesso cioè la sua scrittura diventasse espressione di un afflato di vita tu ci hai ragionato vero su un po' su questo ma guarda ti ringrazio della domanda mi piace cogliere l'occasione per dire che non ho ragionato solo da solo ma il gruppo di lettura che abbiamo fatto qui al circolo l'anno scorso con le difficoltà del caso dovendo farlo un po' a distanza un po' in presenza è stato proprio un gruppo di lettura sul problema del cambiamento climatico e sulla esigenza di creare una coscienza ecologica ecologista ambientalista diffusa trasversale attraverso le letture attraverso la riflessione mi piace ricordare fra i libri che credo abbia più apprezzato il nostro gruppo l'anno scorso il libro di Baptiste Morisot edito da nottetempo che dovrebbe intitolarsi se non vado errato sulla pista animale che se non avete letto io consiglio Caldamento un libro bellissimo Baptiste Morisot è un filosofo anche io sono diciamo filosofo di formazione nel senso che ho studiato filosofia non mi considero un filosofo ma insomma e invece Baptiste Morisot è un filosofo di professione nel senso che insegna filosofia all'università di Aix-en-Provence e ha questa straordinaria capacità di fare teorie filosofiche sul rapporto fra uomo e natura e già questi due termini non vanno bene né uomo né natura e questo poi chi legge il libro lo capisce perché ecco dicevo ha questa straordinaria capacità di teorizzare questo tema di riflettere su questo tema che è un tema classico della filosofia attraverso però il racconto una specie di reportage narrativo della sua esperienza di tracciamento di andare presso alle tracce degli animali che lui fa con il suo gruppo di amici quindi è un filosofo naturalista che scrive secondo me pagine bellissime e c'è insomma quella passione per il rapporto con il nostro ambiente che a Rigoni nel filmato anche si vedeva come Rigoni dicesse anche noi siamo animali infatti bisognerebbe cominciare a parlare non degli animali ma degli altri animali quando parliamo del rapporto con quelli che noi chiamiamo animali ma visto che anche noi lo siamo dovremmo più correttamente dire gli altri animali e Rigoni era ovviamente perfettamente cosciente che non esiste una vita in equilibrio se questa vita non è in relazione con l'ambiente naturale nel quale viviamo e dovremmo vivere molto 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 bello ma triste drammatico in questo libro viene fuori come invece Primo Levi patisse della Torino inquinata e trafficata degli anni 60 e 70 quando il boom economico la Torino dove non c'erano i problemi di disoccupazione che abbiamo noi drammaticamente oggi ma per esempio dove le macchine avevano invaso ogni angolo della città e Primo Levi soffriva moltissimo ed è riportata l'ultima forse correggimi se sbaglio lettera che Primo Levi scrive a Rigoni stesso dicendogli guarda caro Mario patisco patisco le macchine patisco l'inquinamento patisco la fatica che si fa uscire da Torino ci si impiega due ore eccetera in qualche modo ti invidio te che stai lassù ad Asiago insomma a contatto con le tue montagne e probabilmente insomma tu alludi al fatto che anche questo possa avere contribuito poi alla crisi depressiva insomma di Primo Levi e alla sua scelta poi drammatica di togliersi la vita e viene ricordato come fosse atteso Primo Levi ad un indibattito in una scuola con Nutore Velli e poi viene informato di questo quindi è certamente un tema decisivo e Rigoni è un autore possiamo dire dell'ambientalismo italiano e questo va sicuramente detto e anche non solo un'ambiente diciamo non c'è un'idea romantica dell'ambiente non c'è un'idea selvaggia ma c'è un'idea ragionata razionale e anche politica perché diciamo la devastazione del territorio attuata attraverso politiche scelerate di lottizzazione selvaggia che hanno devastato le città e non solo le città le nostre coste insomma in questo libro viene fuori come Rigoni ce lo avesse presente quindi il suo era un approccio pienamente politico insomma quindi un ambientalismo politico antelitteram se vogliamo poi non so se lui si sarebbe definito verde questo lo chiedo io a te insomma se politicamente si sarebbe definito tale e certo questo suo essere un cacciatore è una contraddizione in qualche modo da un certo punto di vista io qui non esprimo giudizi perché non ho una posizione definita tendenzialmente io sono contrario alla caccia come pratica però mi rendo conto che un Mario Rigoni Sterni invece cacciatore mi interroga insomma mi costringe a riflettere su una posizione la mia diciamo ideologica ecco di contrarietà alla caccia però ecco uno dei meriti di questo libro è anche questo e lasciatemi però chiudere poi ti do la parola ti lascio la parola riprendendo un punto invece ancora precedente su un tema che a me sta molto a cuore quello dello scrivere chiaro della scrittura chiara come virtù civile forse qualcuno di voi sa mi è capitato la fortuna qualche anno fa di intervistare Gianrico Carofiglio e di farne un piccolo libretto per le edizioni Gruppo Abele è anche un tema molto del mio amico caro figlio diciamo questo del parlare chiaro come virtù diciamo della letteratura ma come virtù della politica e vuol dire rifiuto della retorica e c'è in un bel passaggio del libro di Mendicino il collegamento fra memoria storica linguaggio non retorico e rifiuto del conformismo secondo me queste tre cose messe insieme una di fila all'altra sono veramente veramente importanti e veramente interessanti proprio in fila coltivare la memoria il rifiuto della retorica perché la memoria fatta attraverso le fanfare i discorsoni e le parolone non è efficace non è efficace soprattutto se la facciamo noi che non siamo più i testimoni perché la generazione dei testimoni è praticamente estinta per fortuna abbiamo avuto la fortuna ancora diciamo di godere della presenza dell'impegno della senatrice a vita Liliana Segre che speriamo abbia la forza di continuare ancora nella sua testimonianza però sappiamo tutti che Liliana Segre non è più una persona giovane e le sue energie ovviamente come quelle di chiunque non sono infinite quindi la generazione dei testimoni è praticamente alla fine e allora se magari potremmo perdonare ai testimoni ogni tanto qualche scivolone retorico cosa che Rigoni non aveva certamente non è perdonabile a noi che siamo semplicemente qui a raccontare quindi questo è molto importante e poi il rifiuto del conformismo cioè il rifiuto della retorica è il rifiuto del conformismo è saper essere in minoranza è saper dire di no quando tutti dicono di sì è saper criticare i salvatori della patria agli uomini della provvidenza che sono espressioni che erano in voga nel fascismo ma ogni tanto sentite anche adesso parlare di uomini politici come fossero uomini della provvidenza magari lo sono pure chi lo sa però utilizzare queste espressioni a me inquieta sempre inquieta sempre moltissimo e quindi cito il nostro autore il conformismo e la retorica nella vita civile e politica soffocano sempre la libertà lo spirito critico e l'autonomia di giudizio sono il preludio di tutti gli autoritarismi e anche qui c'è Kant e anche qui c'è un grande provinciale universalista a cui io sono legatissimo come era Norberto Bobbio che di se stesso non aveva paura di dire ma io sono un provinciale non sono praticamente mai andato via da Torino eccetera eppure sono 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 un universalista e nel dialogo con Maurizio Viroli non so chi di voi l'ha letto dialogo sulla Repubblica è molto divertente perché Viroli filosofo del repubblicanesimo del patriottismo e della nazione come valore insegna in America è un globetrotter e dialogando con Norberto Bobbio dice io sono un repubblicano patriottico e sono invece tu sei un universalista e in fondo sei molto radicato non ti sei mai mosso da via sacchi un grande provinciale come anche un grande provinciale universalista della Giorgio Boca quindi insomma devo dirti grazie anche per avere messo in fila questi concetti e averli legati fra loro a me fa tanto piacere proprio che hai citato Cante caro figlio perché io ho sempre avuto una grande passione per l'illuminismo proprio erano i miei filosofi preferiti da Voltaire di Derot e quando ho fatto un'intervista a un canale della RAI Svizia che si chiama proprio canale di Derot è stato è bellissimo poter parlare a un canale radio che si intitola lui poi il libro di caro figlio fino all'ultimo illuminista che poi è Karl Popper e che diceva non prendete nulla per oro colato ogni fate la prova scientifica ogni cosa che vi raccontano confrontatela con la realtà ogni ideologia ogni cosa con la scienza con la realtà e poi verificate cercate di verificare poi caro figlio quando dico suggerisco ai ragazzi tre libri per diciamo ragionare sulla scrittura chiara primo Levi Italo Calvino e ultimo caro figlio quel breviario di scrittura felice di scrittura civile è secondo me il più bel libro di caro figlio davvero critica sia non solo la demagogia della politica ma anche quella delle categorie come quella dei suoi stessi magistrati o di altri o delle prefetture io non ho mai visto scrivere male come le lettere della prefettura e quando scrivono voglia notiziare la scrivente è terribile io mi sento male quando leggo quelle cose lì e quindi e poi quell'accenno alla politica niente Rigoni Stern si riconosceva in quel bellissimo filone di giustizia e libertà Nuto Revelli era comandante di un battaglione di giustizia e libertà Primo Levi quando fu catturato nelle montagne a Val d'Aosta era in un piccolo gruppo di partigiani di giustizia e libertà Massimo Mila Norberto Bobbio io ho stima dell'attuale ministro della giustizia però quando io andavo venivo a Torino a ascoltare Norberto Bobbio lei andava a Rimini insomma anche secondo me non basta essere al meeting di CL non a in discoteca adesso chiariamolo solo perché a Rimini uno sembra sì a me non piace né una né l'altra solo per dire intende il meeting di Rimini e quindi poi Casalegno adesso abbiamo altri Rimini ci ricorda qualcos'altro allora e poi Emilio Lussu Emilio Lussu insieme ai fratelli Rosselli fondò giustizia e libertà il riferimento sia come modello di scrittura perché un anno sull'altipiano è scritto benissimo è un modello di scrittura chiara e Rigoni dice io lì ho trovato la guerra come era veramente lì è in addio le armi che ho citato prima e poi Emilio Lussu era il capitano vero cioè quello che dà l'esempio che guida gli uomini con con l'autorevolezza più che con l'autorità il capitano vero che è in testa il capitano che sa fare cioè bisogna stare attenti a usare la parola capitano perché capitano uno bisogna aver lavorato tanto nella propria vita e avere competenze e quindi autorevolezza e guidare gli altri ed essere in testa gli altri e Emilio Lussu che ha combattuto il fascismo combattuto la guerra durante la grande guerra era un ottimo un ottimo ufficiale ma non non mandava allo sbaraggio i suoi uomini cercava di ne aveva cura ecco per usare un'antica espressione e quindi ecco i suoi riferimenti erano quelli per la caccia e la natura posso inserirmi un secondo sulla questione della scrittura chiara visto che abbiamo questi suoi amici Primo Levi e Nuto Ravelli per esempio insieme a lui erano tutti e tre dei non scrittori dei non letterati a monte come nascita e pensate che Nuto Ravelli registrava tutte le sue testimonianze col magnetofono e poi faceva queste sbobinature lunghissime molte delle sue testimonianze la maggior parte delle sue testimonianze parlo di quelle civili più ancora che quelle militari erano in dialetto erano in piemontese quindi c'era questa comunicazione diretta mai filtrata che quindi poi anche nella scrittura veniva qualcosa di estremamente diretto immediato appunto antiretorico per eccellenza quindi questi tre questi tre uomini il chimico il chimico Primo Levi il commerciante Nuto Ravelli e l'impiegato del catastro Mario Rigoni Stern usavano la scrittura la utilizzavano non come però attenzione di non pensare che fosse quasi uno spontaneismo o soltanto memorialistica non sto parlando di spontaneismo sto parlando di approccio estremamente sintetico essenziale pulito e puro è un modello è una scrittura su cui tutti e tre avevano studiato molto cioè non era cioè non dobbiamo pensare uno si usava i poeti laureati una volta per criticare un po' chi chi la studiava la scrittura loro l'hanno sempre cercato di scrivere anche quando erano ragazzi soprattutto Primo Levi e Rigoni Stern quindi questa vocazione a scrivere ce l'hanno sempre avuta il fatto che non sia costruita io non sopporto per esempio la scrittura accademica tante volte l'eccesso di citazioni che poi serve anche a un fatto anche di io più citazioni ho in un testo sappiamo come funziona invece la loro scrittura era chiara per scelta una palestra di scrittura per esempio per Rigoni fu anche i tacquini che lui portava nel taschino cioè il fatto di registrare continuamente tutto quello che gli avveniva gli avvenimenti che gli si muovevano intorno che fosse una scalata o una battaglia in una piccola agenda quindi bisognava essere chiari concreti precisi e non ripetitivi e quella agendina è una palestra di scrittura e lui se la portava dietro e gli sarà poi d'aiuto per memorizzare tutto ma soprattutto tu impari a non sprecare le parole a usare le parole giuste precise e a non ripeterle volevo un attimo tornare alla natura agli animali ecco perché lui ti dice come fa un cacciatore a essere ambientalista non è semplice però ci si può fare nel senso ecco questa mostra che adesso è in corso a Trento fino a febbraio ho portato il catalogo per te Linda però lo manderò anche a te Jacopo il titolo è Selvatici e Salvifici si raccontaci anche da dove arrivano questi l'ho scelto io per questo motivo ho curato questa mostra perché partendo da Arboretto Salvatico Salvatico racchiude due parole è toscano antico lo troviamo nel Purgatorio di Dante al Canto 26 vuol dire due cose la natura selvatica e la terza salvifica cioè selvatica nel senso che va lasciata respirare non va distrutta non va cementificata non vanno costruiti impianti da scia di discesa con la neve che non c'è più e stanno facendo cose terribili nello Dolomiti in questo momento e poi saldifica perché se noi salviamo la natura salviamo noi stessi lui citava un altro poeta che amava tantissimo Giacomo Leopardi nello Zibaldone fra l'altro in un saggio non in una poesia Leopardi diceva l'uomo che distrugge la natura taglia le radici del proprio futuro ecco sono poche parole chiarissime nette e limpide se noi salviamo la natura salviamo il futuro nostro e soprattutto di chi verrà dopo di noi perché alle volte c'è un egoismo io guardo la mia piccola vita questi anni in questi anni ma cambiamenti climatici tutto sommato uno deve saper guardare nei secoli addietro anche nei millenni e guardare anche al futuro perché noi contiamo poco conta tanto chi verrà dopo di noi se gli lasciamo una pianura di cemento e capannoni non gli rimane niente e quindi c'è questa idea del selvatico e del salvifico perché nei racconti Rigoni diceva della natura come della caccia bisogna prendere una parte di interesse senza intaccare il capitale il bosco non è quello lasciato selvaggio il bosco migliore è quello di setanio di solmogeneo curato e quindi voglio dire non ci vuole questa attenzione qua per esempio seguire delle regole di lealtà e di conoscenza non andare nei mesi sbagliati della riproduzione a cacciare gli animali arrivare con l'auto fin dove arriva il postino non oltre lui fece una discussione epica con un grande anticaccia che era Ennio Flaiano nell'Espresso quando l'Espresso era una bellissima rivista io sono cresciuto con quella rivista lì e la rimpiango a un certo punto Ennio Flaiano parte arrabbiatissimo Rigoni resta flemmatico alla fine Flaiano dice io non la pensero mai come lei però la perdono perché comunque il suo fusile ha una carica poetica e chiude la discussione con quello Rigoni seguiva delle regole che se vogliamo esprimere in modo semplice sono quelle di un film di qualche anno un po' di anni fa il cacciatore ecco chi lo ha visto si ricorderà Robert De Niro due proiettili la fatica la salita notturna per arrivare all'alba non è l'andare con la jeep a sparare i jaguari come figli di Trump cioè vuol dire fatica vuol dire solitudine vuol dire attendere l'alba poi io non sono neanche io cacciatore ed è una cosa che non condivido però però lo capisco e poi va anche aggiunto che dopo la guerra c'era la fame in altipiano e cacciare vuol dire portare proteine a casa un'ultima annotazione i racconti più belli di Rigoni l'animale si salva segni segni nella neve c'è il lepre investito da un'auto Rigoni corre dietro segue queste tracce di sangue e poi lo aiuta a salvarsi e poi sempre in quella benedetta miniera c'era un capriolo che le guardie attaccano al recinto e i prigionieri hanno fame allora uno di loro propone un giorno ce lo mangiamo e poi facciamo sparire tutte le tracce uno di loro e da pensare a Rigoni dice no ci dà felicità vederlo è un segno di vitalità di qualcosa che è vivo che è bello a primavera lo lasceremo libero e a primavera probabilmente saremo liberi anche noi questo lo scrive nell'ultimo libro stagioni è un'idea di vitalità di un mondo che riparte lui diceva io vorrei morire a primavera perché la stagione che amava di più era l'autunno con i colori la bellezza dei larici indorati i faggi gli asceri rossi ma la stagione la quale vorrei morire è la primavera perché riparte tutto ricomincia tutto ed è morto a primavera il 16 giugno del 2008 io Linda spero farei parlare lui adesso infatti volevo volevo sì volevo proprio chiederti in questo momento sei sei un uomo coinvolto direttamente nel che cosa ti può dare il messaggio di di Rigonistano cioè in che modo pensi che possa essere attuale il suo il suo messaggio quello che lui ha vissuto quello che lui è stato sostanzialmente io sono un po' allergica a queste celebrazioni questa santificazione delle persone però ci sono sicuramente delle degli uomini delle donne che hanno forse proprio con quel loro universalismo di cui parlavamo all'inizio possono portarci dei contenuti umani che vanno al di là del tempo che loro hanno vissuto ecco tu oggi che ti trovi in questa condizione come come lo interpreti sì mi trovo in questa condizione e non è la ragione per la quale sono qui fra voi perché appunto sono qui fra voi in quanto l'invito era molto precedente chiariamolo se no sembra che il circolo inviti l'uomo di potere no no non è affatto così io appunto come sa chi frequenta abitualmente questa casa da molti anni conduco un gruppo di lettura che è partito proprio come gruppo di lettura su Norberto Bobbio e poi è continuato appunto fino a oggi oggi alle sette ci siamo salutati e abbiamo attraversato molti temi tra i quali quello della appunto diciamo prima dell'ecologia beh Rigoni è tra quegli autori antiretorici che secondo me nel paese della retorica sono fondamentali come anticorpi come antidoti perché il nostro appunto è un paese malato di conformismo e retorica di quella retorica falsificante diciamo dell'esteriorità dietro la quale non c'è non c'è nulla dell'eccesso delle pose diciamo così grossolane volgari e questo diciamo è un tratto ecco Piero Gobetti avrebbe detto l'autobiografia della nazione insomma lui definiva così il fascismo e uno degli elementi nefasti del fascismo era anche proprio diciamo nella sua dimensione estetica il fascismo era innanzitutto intollerabile sul piano estetico Mussolini era inguardabile nelle sue pose era erano appunto era una volgarità esibita che attraversa la nostra storia che devo dire è un filone inesauribile perché mi sembra diciamo la tua garbata allusione al capitano che hai fatto prima non so quanto fosse credo di sì insomma capitano e adesso io qui non posso anche allo spacciatore di programmi televisivi orrendi ecco no sappiamo che il capitano è il modo che alcuni hanno seguaci hanno di chiamare un uomo politico di cui non faccio il nome diciamo che credo a cui diciamo tratto fondamentale non sia certo l'eleganza nel rifiuto della retorica insomma quindi antiretorica come aderenza ai fatti alle cose come aderenza anche scientifica alle cose come rapporto con i fatti con la scienza e questo è l'illuminismo e questo per esempio è l'illuminismo torinese e questo è Norberto Bobbio Norberto Bobbio detestava la retorica Norberto Bobbio era anche molto pessimista e quindi arrivava persino a non sopportare l'ottimismo che pensava fosse un po' una virtù diciamo cioè una caratteristica degli stupidi e quindi io penso che Rigoni appartenga a questo straordinario filone non so se minoritario nella nostra cultura certamente minoritario nel paese quello dell'antiretorica mi piace ricordare un conterraneo di Rigoni Stern campione dell'antiretorica autore straordinario anche di giustizia e libertà del partito d'azione come era Luigi Meneghello e i piccoli maestri è un capolavoro assoluto sulla resistenza raccontato in maniera antiretorica e l'ironia è una caratteristica diciamo l'autoironia è una caratteristica che dovrebbero avere le persone insomma che anche che fanno politica e invece noi purtroppo siamo in un paese dove è possibile non so affacciarsi a un balcone e dire abbiamo abolito la povertà senza che questa cosa risulti ridicola insomma come evidentemente è al di là delle intenzioni diciamo e delle singole misure che fossero state adottate in quel caso quindi secondo me quello che è importante di Rigoni come scrittore civile è questo ed è questo senz'altro uno degli elementi che più hanno a che fare con la politica e con l'educazione politica poi lo abbiamo già detto l'importanza del coltivare la memoria e quindi anche di libri di mediazione fra noi e questi grandi autori come quello di Giuseppe Mendicino proprio perché i testimoni non ci sono più e quindi questo è senz'altro importante e poi dicevamo senza dubbio il rapporto con la natura che ci circonda che ci ha deve aprire gli occhi di fronte al cambiamento climatico al riscaldamento globale fatemi citare a proposito di montagna chi di voi ha letto un bel libro che è un reportage diciamo un viaggio in Italia fatto da Roberto Mezzalama pubblicato da Einaudi quest'anno si chiama Il clima nell'Italia che cambia adesso il titolo adesso c'è clima c'è Italia scusate sono un po' stanco ma non mi ricordo esattamente l'autore sicuramente lui e l'editore sicuramente Einaudi e tra le prime cose che racconta c'è aiutatemi adesso a identificarlo bene il crollo di una parete che ha fatto la storia dell'alpinismo come conseguenza del cambiamento del cambiamento climatico e quindi diciamo dove correva la via Bonatti esattamente esattamente dove Bonatti ha fatto le sue imprese quindi non c'è luogo più delle montagne che ci racconta del dramma che stiamo vivendo del problema drammatico del cambiamento climatico e quindi anche da questo punto di vista è un autore di straordinaria attualità che bisogna bisogna leggere io l'ho scoperto anni fa grazie a una mia carissima amica all'epoca abitavamo in Spagna che mi disse ma tu hai mai letto Rigoni? dico no in effetti no e mi diede storia di Tönle ce leggi lo leggilo e lei è una botanica una che si dedica a cercare le erbe officinali lombarda e le sono molto grato e devo dire insomma questo non l'ho poi più lasciato e mi è piaciuto per le ragioni per le quali mi piacciono Meneghello e tutti gli autori diciamo Calvino Sciascia di quelli di cui abbiamo parlato insomma proprio per questo suo stile di scrittura e spero e credo e auspico che continui a essere letto nelle scuole e certamente il libro di Mendicino è un contributo a mantenere forte e viva la memoria di Rigoni speriamo lo sia anche questo documentario al quale se ho capito bene hai dato un contributo fondamentale e quindi insomma continuiamo a leggere Rigoni e può solo farci del bene e tra l'altro prima di vedere il filmato mi permetto di ricordare è fatto bene a ricordare quell'autore ne volevo ricordare un altro di cui oggi ricorrono i cento anni 27 ottobre 1921 nasce Antonio Cederna nessun telegiornale l'ha ricordato oggi è il più grande difensore dell'ambiente del paesaggio del nostro ma si è battuto proprio concretamente tutta la vita fra l'altro ha dedicato un libro la terza molto bello quando si dice le cose buone fatte da da Mussolini ecco tra le cose cattive io aggiungerei anche la devastazione urbanistica di Roma e Cederna gli ha dedicato un libro bellissimo a questa cosa a questa cosa qui e sono i due curioso che ricorre il centenario in ottobre di Zanzotto autore oltre che di bellissime poesie di questo libro Il progresso scorsoio lui al Veneto di pianura che ha visto questa devastazione della pianura a Veneto inquinamento delle acque il FAS e poi anche i capannoni la marea di capannoni di cui uno su cinque oggi è abbandonato e è perso per sé e poi Antonio Cederna oggi questo questa ricorrenza importante io vorrei che ci fosse un altro Antonio Cederna oggi purtroppo la cosa curiosa è che nonostante questa maggiore consapevolezza e conoscenza del disastro c'è io ho visto negli ultimi due tre anni proprio un aumento del cemento e della delle devastazioni quello che sta succedendo sotto le Tofani in questo momento è emblematico beh certo via libera gliel'ha andato le Olimpiadi facciamo vedere senti prima di far vedere con cui concluderei questi ultimi minuti volevo che tu ci dicessi due cose proprio per seguire il discorso che facevamo sull'importanza di portare di far continuare di far continuare a vivere questo messaggio e cioè quello che passa anche attraverso il premio letterario Rigoni Stern ma guarda lì si sono stanno muovendo tante cose per esempio in questo momento mentre stiamo parlando su Rai Storia stasera andava in onda un bellissimo speciale proprio su Rigoni Stern con varie testimonianze Barberis Cognetti che fra l'altro è l'autore di una prefazione alla ristampa di Arboretto Selvatico particolarmente bella forse la più bella delle cinque prefazioni che sono uscite era bella anche quella di Asfinati però era del 2001 la più bella sicuramente quella di Cognetti Maria Pia Veladiano Marco Paolini però una rassicurazione lo ridaranno domattina dopo domani me le sono appuntate nei prossimi giorni ce ne sono da domani il 29 il primo il 2 il 2 novembre ecco poi il documentario di cui abbiamo visto il trailer poi domani uscirà il nuovo numero di Meridiani Montagne dedicato all'altipiano e l'articolo di apertura sarà proprio su Mario Igonisterio all'altipiano l'ha scritto un certo mendicino non so se forse poi c'è questo convegno di di Assiago ecco e poi io spero che una cosa che mi piacerebbe però la volevo suggerire allenaudi avevano creato quella bellissima collana lettura per le scuole medie con l'autore che scriveva la prefazione pensando proprio ai ragazzi e secondo me andrebbe ripresa quell'iniziativa lì perché davvero c'era il libro scritto per gli adulti e però con l'autore che scriveva la prefazione cercava di aprirlo ai più giovani e portarlo nelle scuole quando io vado a parlare nelle scuole gli dico all'insegnante fai le fotocopie di quelle prefazioni lì e falle girare perché basta far parlare lui e dice tutto ma senti dici due cose sul premio invece che qual è il senso del premio il premio Mario Igonister io non so se continuerà però quest'anno è andato bene io ero nella giuria ho litigato in mente con il mio amico Luca Mercalli perché è impossibile io gli voglio tanto bene lo stimo abbiamo fatto delle discussioni terribili è stato premiato il libro di Rene Borgna Cieli Neri che racconta l'inquinamento luminoso cioè è un inquinamento apparentemente secondario però si riflette anche sulla salute di tutti noi e oltre che sulla bruttezza e bellezza che va via tra l'altro in Italia io ho delle cose che non sapevo ci sono 4-5 luoghi e basta dove si può vedere un cielo senza inquinamento luminoso sono la Val Seriana il no la Val Senales scusa la Valle Aurina in Alto Adige e poi l'Isola di Monte Cristo e forse Fili Cudi ma pochissimi pochissimi luoghi e quindi era un bellissimo stimolo perché poi Rigoni aveva questa passione anche per per il cielo per l'astronomia aveva aveva imparata da ragazzino nei libri di Flammarion un attore francese dimenticato ma che ai primi del Novecento ha fatto conoscere l'astronomia a tantissimi tantissimi ragazzi e vedere cielo stellato è una delle cose più belle che si possa provare nella vita quindi lo scopo del premio è quello di valorizzare dei libri che in qualche modo parlino di il libro letterariamente più bello di nature un libro che sia di stimolo mi viene in mente autobiografia della neve di Daniele Zovia avrebbe potuto vincere era altrettanto bello secondo alcuni forse anche quindi che sia di stimolo una riflessione sul contesto in cui viviamo e quello che poi un altro libro che è stato segnalato era un libro francese sui rifugiati che traversano le Alpi come una volta gli spalloni come faceva Massimo Mila che usava le sue virtù alpinistiche per scalare le montagne e portare dalla Francia di qua i manifesti giornali di giustizia e libertà e adesso invece ci sono questi disgraziati che muoiono per cercare di traversare le Alpi e non c'è un libro italiano che ne parli c'era questo libro francese e abbiamo pensato di segnalarlo bene allora scusa se non vado errato il libro di un mio amico e collega giornalista che adesso scrive per domani prima scriveva per il manifesto che si chiama Maurizio Pagliassotti racconta racconta credo pubblicato da Bollati Boringhieri se non vado errato racconta delle diciamo quello con Andrea Membretti anche forse no 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 è solo lui quindi questo magari te lo cercalo o te lo faccio avere allora proviamo facciamo parlare Rigoni Sterne eravamo nel suo arboreto salvatico sotto gli alberi quella panchina che vedrete adesso non c'è più perché è stata tirata via e ogni volta che ci passo vedo il boschetto l'abbiamo visto anche nel filmato la cassetta rosa che si è costruita negli anni 60 il boschetto la panchina il tavolo non ci sono più e dà una grandissima malinconia però chi va in altipiano io consiglio di andarlo a vedere questo boschetto perché il giardino di Rigoni non è mai stato recintato quindi chiunque può entrarci dentro lui odiava talmente i confini che non ha recintato neanche casa sua e oltre le tante montagne dell'altipiano che si possono visitare c'era la passeggiata che lui faceva prima di sera con il cane cimbro fino alla lapide dei partigiani a 700 metri da casa sua c'è una lapide che ricorda il moretto chi conosce Rigoni avrà letto un ragazzo dei nostri contradi in ritorno sul don che questo ragazzo prima malgaro poi alpino poi partigiano sempre di giustizia e libertà era nella banda di Giuriolo lo ricordo anche Meneghello nei piccoli maestri viene fatto questo rastrellamento nel giugno del 45 e questi ragazzi si spingono verso nord a nord l'altipiano precipita nel vuoto c'era la possibilità di scivolare per dei canaloni ancora giugno oceano di neve ma non ce l'hanno fatta li hanno mitragliati e li hanno uccisi quasi tutti si sono salvati solo due che si sono riparati in una grotta tra questi il moretto in questa lapide chiunque può andare a vederla c'è scritto qui riposa Rinaldo e Giuseppe Rigoni tu che passi sosta e medita sono morti per la libertà di tutti noi ed è la camminata che faceva prima di andare di ritirarsi ecco quindi non solo alte montagne ma anche piccole cose che consiglio di visitare per chi va in altipiano ecco quel giorno nel boschetto gli ho chiesto di parlarmi della sua scelta del settembre del 1943 allora Andrea se lo fai partire grazie eravamo numeri non più uomini il mio era Zibentausen Noi Umber Traion Filsi ossia 7943 era uno dei tanti mi avevano preso sulle montagne i confini con l'Austria quando tentavo di arrivare a casa non ce la feci mi portarono a piedi fino a Innsbruck e poi dopo 4-5 giorni si caricarono sui treni e si portarono in un territorio molto lontano che a noi era sconosciuto oltre la Polonia vicino a Rituania sulla Masuria in un lager dove precedentemente erano morti migliaia e migliaia parlano di 50-60 mila russi prigionieri morti di fame e di tifo noi andavamo a occupare le baracche che avevano lasciato liberi e dopo 4-5 giorni ci proposero di arrollarci con la Repubblica di Salò ossia di aderire all'Italia di Mussolini eravamo un gruppo di amici che avevamo fatto la guerra in Albania e in Russia eravamo rimasti in poche ci siamo messi davanti allo schieramento e quando hanno detto alpini fate un passo avanti e ritornate a combattere abbiamo fatto un passo indietro e fumo coperti di insulti e di introperi avevamo visto cos'era vamo noi in guerra sia in Albania sia prima contro la Francia poi contro la Russia e avevamo capito di essere una parte del torto non potevamo più essere alleati né con i tedeschi dopo quello che avevamo visto perciò da allora fumo dei traditori fumo della gente che non aveva più combattere e ci trattarono da tali nell'ordine dei lager venivamo subito dopo gli ebrei gli slavi e venivamo noi e non eravamo nemmeno riconosciuti della croce rossa internazionale si chiamavano internati eravamo prigionieri dentro reticolati con le mitragliatrici piazzate nelle torrette che ci seguivano ogni volta che ci spostavamo dentro per andare in qualche parte dove abbiamo resistito e tanti di noi non ritornarono più di 80.000 nostri compagni sono morti in questi lager durante la prigionia io ritornai nella primavera del 1945 a piedi dall'Austria dove ero fuggito dall'ultimo lager arrivai a casa che ero poco più di 50 kg pieno di fame di febbre e feci molta fatica a riprendere la vita normale non riuscivo nemmeno a sedermi a tavola con i miei a dormire nel mio letto ci volevano molti mesi per riprendere la vita di cittadini che si essi avevamo dietro le spalle una storia che si aveva fatto aprire gli occhi su quello che eravamo noi e su quello che erano quelli che dicevano i nostri nemici quello che ci avevano insegnato nella nostra giovinezza era tutto sbagliato non bisognava credere obbedire e combattere non bisognava che l'obbedienza fosse cieca pronta e assoluta non bisognava che libro e moschetto fosse il fascista perfetto avevamo imparato a dire no sui campi della guerra ed è molto più difficile dire no che sì e anche voi ragazzi imparate a dire no alle lusinghe che vi sono intorno imparate a dire no a chi vi vuole far credere che la vita sia facile imparate a dire no a chi vi vuole proporre delle cose che non sono contro la vostra coscienza seguite solo la vostra voce è molto più difficile dire no che sì direi che abbiamo detto tutto queste sono immagini di di una piccola geografia di immagini se volete fare delle domande altrimenti ci salutiamo su queste ultime parole mi sento veramente di dire che questo libro è è un libro che dà degli strumenti non è semplicemente una biografia fatta per soddisfare delle curiosità no guarda Linda mi viene solo da dare un suggerimento ecco io vorrei suggerire di leggere un libro che è il più dimenticato di Mario che è Quota Albania vero e secondo me allora lui diceva il mio libro forse più bello è storia di tende il sergente nella neve forse il più bello sicuramente il più importante quello a cui sono più affezionato è Quota Albania ha avuto meno fortuna di altri perché con quel titolo sicuramente è sbagliato il bosco degli urogalli è un titolo evocativo uno legge Quota Albania rimane un po' freddo in realtà è un libro che parla di montagne i primi capitoli parlano delle montagne qui delle alpi occidentali il passo del piccolo San Bernardo non è tutto ambientato ed è un libro di neve e di montagne non è l'Albania di Tirana del mare è l'Albania delle montagne alte e dei ragazzi soldati congelati ed è molto duro è molto compatto scritto benissimo e poi diceva proprio richiamando Conrad lì io ho vissuto ho superato la mia linea d'ombra richiamando il titolo di un bellissimo racconto di Conrad perché da adolescente ragazzo sono diventato ragazzo uomo ho vissuto dei mesi in situazioni terribili si è spezzato lì il grande amore della sua gioventù ed è un libro che secondo me andrebbe riscoperto ecco se posso dare un suggerimento uno solo è questo grazie a tutti grazie Giuseppe Mendicino e grazie Jacopo Rosatelli grazie a Linda Cottino grazie al Circo grazie a tutti 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 grazie a tutti